Avrebbero costituito finte società cooperative che agivano solo con lo scopo di intascare illecitamente contributi previdenziali non dovuti. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana nel Brindisino hanno eseguito alle prime luci dell'alba un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone accusate di aver organizzato un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe di ingente in porto nei confronti dell'Inps. La finanza ha inoltre effettuato il sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro nei confronti degli stessi indagati nell'ambito dell'operazione denominata Vasteland. È stata contestata da alcune decine di persone anche la commissione di numerose e lucrose truffe pluriaggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'organizzazione avrebbe agito per diversi anni nel territorio di Brindisi e in particolare nella zona di Francavilla Fontana fondando finte cooperative agricole che operavano al solo scopo di percepire illecitamente prestazioni previdenziali non dovute. L'accusa nei loro confronti è di truffa aggravata.